Ah sì, ci siamo. Ci siamo, sì. Questo pezzo si chiamava Abba Bach. Sì, un misto tra gli Abba e le melodie classiche di Bach. Siamo pronti a continuare perché ne abbiamo tanti, a parte il fatto che la sindaca di Milano ha detto che possiamo andare avanti fino a tardi. Un pochino di più, vero? E noi ne approfitteremo un pochettino, però adesso è arrivato il momento di Abba, Abba! No, 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 fermo, non tienimi nascosta Abba perché ho pronti i ballerini che faranno l'introduzione, che arriveranno prima di Abba. Il gruppo è quello della Jam Session Crew con le coreografie e con Giorgia Chiurato e poi ci sono i circensi della Jar Creativa. Quelli vestiti da Village People. Applausi, vai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Complimenti anche per le acconciature Grazie a tutti